Ancora un tragico schianto sulle strade aretine. Poco dopo le 6.30 di questa mattina, un'auto è finita contro un pilone di cemento di una sopraelevata lungo l'autostrada del Sole, a pochi chilometri dall'area di servizio di Badia Alpino. Nell'incidente ha perso la vita un 86enne. L'auto, una station wagon grigia con a bordo due persone, stava transitando in direzione nord verso Firenze, quando dopo aver perso il controllo è uscita fuori strade e è finita a sbattere con violenza contro la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la croce bianca di Monte San Savino e tre pattuglie della polizia stradale che hanno interrotto il traffico in entrambi i sensi di marcia. Alla guida della station wagon si trovava un 55enne di Todi che è rimasto illeso. Ad avere la peggio è stato il passeggero che è stato estratto dai vigili del fuoco. L'uomo, un 86enne di Roma, era già in gravi condizioni. I sanitari del 118 avevano allertato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in un centro specializzato, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Nessun'altra auto è rimasta coinvolta nell'impatto. Ovviamente traffico in tilt è lungo la 1 a seguito dell'impatto, con chilometri di coda in entrambe le direzioni. Si tratta del quinto incidente mortale che si è verificato nella provincia di Arezzo nelle ultime due settimane. Solamente alcuni giorni fa aveva perso la vita una 54enne lungo il raccordo autostradale. E questa mattina l'ultimo terribile schianto che allunga così la drammatica scia di sangue sulle strade dell'Aretino.